Amici, è stata una bella vittoria, sono contento, sono felice per il risultato sul campo, per l'aspetto sportivo, perché battere la Fiorentina è sempre bello, li abbiamo raggiunti in classifica, abbiamo finalmente tolto quello zero dalla casella delle vittorie, una vittoria, sei punti, è incredibile, come in una partita cambi tutto. D'improvviso ci ritroviamo a metà classifica, ci ritroviamo alla pari con squadre come la Fiorentina, che sembrava che addirittura dovessero entrare a far parte del club, ma ragazzi oggi, diciamola tutta, abbiamo meritato la vittoria, giustissimo, una reazione fondamentale, grossa, bella, al loro gol, i nostri due gol, uno dietro l'altro, Barrov e Arnautovic, che sei gol capocannonieri del campionato, quindi davvero grande Marco Arnautovic, e ripensiamo tutte le vicissitudini dell'estate, va via, non va via, Manchester United, ragazzi, abbiamo un giocatore crack, un giocatore che resterà per sempre scolpito nella storia del Bologna, perché comunque è un bomber, è un trascinatore, oggi abbiamo vinto una partita difficile alla faccia di tutti, perché sì, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Durante la settimana abbiamo assistito alla vicenda Mijailovic, noi non vogliamo tornare sopra, non vogliamo dare nessun giudizio, perché non spetta a noi, sono state prese decisioni, quando si prendono le decisioni, le decisioni bisogna rispettarle, bisogna guardare avanti, è stato deciso di fare un percorso diverso, vedremo adesso come andrà con Tiago Motta, intanto oggi abbiamo vinto anche senza di lui, comunque era in tribuna, ma è stata una vittoria davvero che ancora mi rende euforico, l'ho vista oggi, sono finalmente adesso a casa con la mia maglia del Bologna a poterla commentare, sono contentissimo, però bisogna tornare su un paio di aspetti. Il primo ha fatto benissimo il nostro DSA, difendere la moralità del Bologna, per favore, non tiriamo in ballo la moralità del Bologna, la moralità della dirigenza, il fatto di aver esagerato Mijailovic perché lui non se lo meritava, ma ragazzi qui si parla di aspetti tecnici, giuste o sbagliato che siano le scelte, si basa su aspetti tecnici. E quindi per favore, davvero per favore, intoccabile il Bologna, il Bologna società, noi tifosi lo sappiamo benissimo, ribadisco, possiamo essere d'accordo, può essere giusto o sbagliato, è un altro discorso, giudicheranno, saranno i fatti a dare le risposte, vedremo la classifica come andrà, vedremo se tutto in realtà ha avuto un senso positivo piuttosto che negativo, ma questo è un altro aspetto. E poi, scusatemi, no, non ci sto a far passare Roberto De Zerbi come un eroe, un eroe che per chissà quale suo valore non ha voluto prendere il posto di un allenatore, a suo parere, esonerato ingiustamente per lo stato di salute, c'è tutto l'opposto di quello che avrebbe voluto Mijailovic, che non avrebbe mai voluto sentire un ragionamento del genere, quindi il signor De Zerbi, per favore, io non lo voglio neanche mai più sentire accostato al Bologna, mai, mai più, per carità, per favore, non vuol venire a Bologna, avrà le sue ragioni, non vuole entrare in campionato in corso, lui ormai vuol fare la Champions, si è montato la testa, è un allenatore superiore a quelle che sono in questo momento le attese del Bologna, benissimo, liberissimo di farlo, per favore però, che non nessuno tiri fuori il fatto che esistono uomini così, ma che bravo che è stato, De Zerbi, grandi valori umani, ma per carità, ma cosa ci prendiamo in giro? Ma vogliamo davvero prenderti in giro? Roberto De Zerbi out, mai più a Bologna, anzi, quando verrà a Bologna si dovrà assorbire i fischi, perché se li merita tutti, perché il suo comportamento non è stato un comportamento onesto, lui ha costruito intorno a questa vicenda davvero una questione assurda, che è incredibile, che sia stata anche ripresa, così montata, dagli organi di stampa. Comunque noi non ce ne freghiamo, scusate la parola, non ci interessa, oggi siamo felici perché il Bologna vinto, siamo contentissimi, speriamo che continui la serie positiva anche con l'Empoli la prossima settimana e amici miei, forza Bologna, sempre!